Resi noti nei giorni scorsi le graduatorie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda la costruzione di nuovi asili nido. Ad accedere a questi fondi anche il Comune di Pescara che ha ottenuto oltre 4 milioni di euro. È un risultato eccellente per il Comune di Pescara in quanto abbiamo fatto la richiesta per 4 asili nido e sono stati fidanziati tutti e quattro, tranne uno con riserva. Che però noi dovremo soltanto giustificare alcune cose al Ministero e parlo dell'asilo nido di via Rubicone. Invece gli altri asili nido finanziati regolarmente sono via Celestino V, via Lagosoletta e via Santina Campana. Dunque i tempi quali saranno? Noi prevediamo di fare la progettazione entro la fine dell'anno 2022 e affidare l'incarico alle ditte che vinceranno la costruzione di questi asili entro il 2023. Va ricordato che l'estate scorsa in città era scoppiata la polemica sulla carenza di posti negli asili nido comunali. L'obiettivo del fondo PNRR appunto è quello di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Anche questo però già quest'anno avevamo risolto perché abbiamo fatto delle convenzioni con gli asili privati e quindi diciamo che quest'anno avevamo già coperto un po' tutte le richieste. Però con questi fondi, con l'istituzione di questi quattro asili nido risolveremo tutta la problematica per le famiglie di Pescara che hanno questa necessità di mandare i bambini agli asili nido.